Ciao, siete qui? Siete pronti per vivere nuove emozioni con la nostra fiaba? La storia di oggi ha come protagonisti degli splendidi animali di cui sicuramente vi innamorerete. Si intitola Maia, ciccio e le regole del branco. Buona lettura. Tra i meravigliosi boschi selvaggi del parco della Maiella viveva una famiglia di lupi molto particolare. Era un piccolo branco. C'erano mamma e papalupo, che erano i capibranco, la zia Balia e due stupendi cucciolotti. Mamma e papalupo passavano ore a cacciare perché i loro lupetti erano sempre affamati, quindi capitava spesso di lasciarli con la zia Balia, che però non sempre riusciva a stare dietro a quelle piccole pesti e molte volte preferiva aiutare nella caccia. Maia era la cucciolotta più bella che si fosse mai vista, con il pelo scuro lungo e soffice e con bellissimi occhi vivaci. Suo fratello ciccio era un po' grassottello ma un vero esploratore e capitava spesso che, curiosi di conoscere il bosco intorno a loro, si mettessero nei guai. Mamma e papalupo ripetevano sempre che la vera forza dei lupi era il branco e il branco era forte grazie alle regole che ogni lupo doveva seguire. Noi lupi sopravviviamo solo seguendo le regole, ripetevano ai loro piccoli. Maia e ciccio sapevano, per esempio, che quando il branco cacciava i cuccioli dovevano solo stare a guardare o che quando camminavano dovevano mettersi in fila dietro i capibranco e non superare mai il loro posto. Si doveva anche aspettare il proprio turno per mangiare e tantissime altre regole. Ma regola più importante? Un branco di lupi non si allontana mai dai suoi boschi per entrare nei boschi degli altri. Deve stare a distanza di sicurezza. Quindi non dovevano allontanarsi per non avere guai seri, ma loro due erano veri esperti di guai. Infatti una volta accadde che i due cuccioli si trovassero soli nella tana e, come al solito, iniziarono a giocare e rotolare e, come spesso accade tra cuccioli, giocarono a rincorrersi talmente tanto che ad un certo punto ciccio rotolò giù in un burrone. Maia corse ad affacciarsi per cercare il fratello, ma non riusciva a vederlo da nessuna parte. Era troppo profondo laggiù. Ciccio, solo e disperato, fiutava l'aria con il naso all'insù per capire dove si trovasse. E intanto la piccola Maia, preoccupata ma con coraggio, fece un profondo respiro e rotolò giù nel burrone per finire in una strana grotta scura, dove sentiva un fortissimo odore. Diverso dal solito, ma poi finalmente sentì un odore familiare. Era suo fratello! Che felicità averlo ritrovato! Subito si riconobbero anche al buio, annusandosi e leccandosi. Maia, impaurita, si lamentò con il fratello. Questa volta siamo davvero nei guai. Mamma e papà non ci perdoneranno mai. Se riusciremo a trovarli, chissà dove siamo, si lamentava Ciccio spaventato. Nel frattempo i capi branco si erano accorti della scomparsa dei due cucciolotti e cominciarono a cercarli in ogni angolo del bosco, ma dopo ore di ricerca dei due cuccioli nessuna traccia. Pian piano Mai e Ciccio erano riusciti ad andare via da quella strana grotta e proprio mentre stavano cercando la via del ritorno, sentirono l'ululato del loro branco che li chiamava. I cuccioli, emozionati, risposero con un guaito disperato, ma non si accorsero dei due lupi sconosciuti che li stavano osservando. Allora accadde che, all'improvviso, arrivarono in aiuto mamma e papalupo che, a distanza di sicurezza, si scusarono con i lupi sconosciuti, facendo loro capire che non sarebbe più successo niente del genere, mai più. E fu così che, anche se la gioia di averli trovati sani e salvi era tanta, mamma e papalupo, sulla via del ritorno, si fermarono per dire con tono serio. Sapete bene che noi lupi non andiamo nell'etena degli altri e nemmeno nei loro boschi, ma dato che ve lo siete dimenticato, d'ora in poi, ogni giorno, ci ripeterete tutte le regole del branco. Mai e Ciccio si guardarono negli occhi con facce tristi, ma sapevano di meritare una punizione anche peggiore di quella per il pasticcio che avevano combinato. E quindi erano stati fortunati, ma dopo quella terribile avventura avevano capito più che mai che le regole del branco erano sacre e sicuramente non le avrebbero mai più dimenticate. La nostra storia è finita. Vi è piaciuta? Spero che tutti quanti abbiate capito che è importante seguire le regole, non solo per i lupi, ma anche per noi. Ringraziamo anche questa volta Pigi per le sue meravigliose illustrazioni che ci hanno fatto veramente sognare. Vi aspetto sabato prossimo, sempre sulla pagina del Bosso. Ciao a tutti!